Se è vero che l'essenziale non è quello che si sa, ma quello che si è, è altrettanto vero che la scuola elementare di Atessa, in provincia di Chieti, ce la sta mettendo tutta per fondere quest'aulico connubio. Sforzi quadruvati da una squadra di insegnanti pronti a mettersi in gioco ed un progetto che chiamare ambizioso vorrebbe dire sminuirlo. Primo fra tutti a sostenere la scuola del fare per imparare e il dirigente scolastico il professor Guglielmo Formisano. Un progetto che è stato sperimentato per la prima volta in Finlandia è un progetto in cui gli alunni potranno acquisire, anche grazie al lavoro di gruppo, lavori interdisciplinari, potranno acquisire, dicevo, senso di collaborazione, di cooperazione, rispetto per se stessi, per gli altri, per la difesa dell'ambiente, per la solidarietà. Con la singolare locuzione, scuola senza zaino, anche la direzione didattica di Atessa, unica realtà in Abruzzo, prende a modello ciò che solo poche altre regioni in Italia hanno iniziato a sperimentare, ovvero un modello di scuola che coniuga la ristrutturazione degli ambienti di apprendimento con un'attenta revisione dei metodi di insegnamento e tutto questo sin dall'ingresso a scuola. In altre parole è una scuola dove gli adulti progettano insieme ai bambini gli spazi e i tempi che andranno a vivere e dove riorganizzare è divenuta la parola d'ordine, dove tutto il materiale didattico è condiviso e gestito in comune, abituando così i bambini ad essere responsabili. Le aule hanno grandi tavoli di legno e sedie a misura di bambino, colorate e personalizzate e una pluralità di spazi attrezzati, basti pensare all'angolo destinato all'agorà. Un'area dedicata alla lettura e alla conversazione, inoltre vi sono postazioni per attività in autonomia come lo spazio computer, gli armadietti a giorno dove si possono riporre le proprie cose e prendere autonomamente gli oggetti per lavorare. L'aula dunque personalizzata con più aree di lavoro per svolgere più attività non solo impiegando la testa ma anche utilizzando le mani e il corpo. La cara e vecchia cattedra, ormai messa in disparte, lascia il posto ad aree ben più interessanti e disimpegnate rispetto alla metodologia tradizionale. Non è un caso infatti se in prima elementare, nella prima elementare di Atessa, i bambini si cimentino nella stesura di un giornalino online dal nome tutto giocondo, la Gazzetta del Grembiule. Organizzatrice e capofilla, indiscussa di questo modo nuovo di concepire una moderna scuola viva e partecipata, è la maestra nonché vicepreside, Giovanna Giuliante, che in forma del tutto esclusiva racconta per la prima volta dinanzi alle nostre telecamere il suo impegno in tal senso. Il simbolo proprio del progetto è la borsa, lo zaino, cioè lo zaino viene eliminato in quanto dà già l'idea della scuola pesante, della scuola faticosa e quindi si è alleggerita con una borsa di jeans, una borsa di stoffa dove loro mettono il necessario. I bambini si rendono responsabili perché ogni bambino si occupa delle cose degli altri, cioè degli oggetti degli altri, i bambini non sono sistemati in singoli banchi ma sono divisi in gruppi, cioè ogni gruppo da 4, da 6 a seconda del numero dei bambini e ogni tavolo è il suo responsabile. Sono contenta dell'opera, cioè di quello che si è fatto finora, grazie anche alle colleghe, ai bidelli, al dirigente, a tutta la scuola che mi ha permesso di realizzare questo nuovo progetto che è molto impegnativo ma è di una soddisfazione unica. All'interno del plesso scolastico di Atessa attualmente sono due le classi di prima elementare a sperimentare ciò che la Giuliante illustra con orgoglio. La maestra del fare per imparare condivide questo progetto con altre due colleghe, Serena Di Natale e Patrizia Giuseppetti, le quali hanno aderito con gioia a ciò che sarà destinato a divenire un vero e proprio rinnovamento pedagogico. Ma vi sono anche altre figure che rendono straordinaria questa prima esperienza formativa in Abruzzo. Sara Ciccarelli, tirocinante ed energica sostenitrice delle idee della sua ex maestra Giuliante e la tenace segretaria Anna Maria Porfiglio, tutti uniti in direzione di una scuola senza zaino e con tante aspettative per l'istruzione delle nuove generazioni e tutti consci che, mentre si insegna, si continua ad imparare. Grazie. 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 Grazie.